E mancano l'appello 2 milioni, quindi vuol dire che il costo dei servizi che danno il Comune è maggiore di 2 milioni rispetto alle entrate. Abbiamo ritoccato la tassa di soggiorno e abbiamo toccato qualche parcheggio. Non vogliamo togliere servizi sicuramente ai cittadini, non vogliamo alzare le tasse. A Palazzo Rosso si sta lavorando lacrimente per chiudere il bilancio previsionale. L'intento, spiega il Sindaco, è quello di non alzare le tasse, ma qualcosa, detta della stessa maggioranza, bisogna ritoccare se si vuole mantenere inalterata la qualità dei servizi. Certo, afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia, Farina, più di questo non siamo disposti a digerire. Il Comune ha deciso di modificare gli scaglioni dell'IRPEF che passano da 4 a 3 sulla base delle direttive del Governo. Per la fascia più bassa viene mantenuta l'aliquota minima di 0,72, mentre per la seconda si passa da 0,78 a 0,80, esattamente come per la terza. Una misura iniqua per l'opposizione. Da lì in poi sono iniziate le scaramucce e in Consiglio Comunale si è sfiorata la bagarra. A questo punto l'assessore ai lavori pubblici Franco Roccone si sarebbe lasciato andare a un commento poco piacevole nei confronti del consigliere Vignato e la circostanza ha fatto infuriare la capogruppo del PD, Claudia Bettiol. Sotto voce le NAC. La sessore Roccone, magari mi ha già fatto il quale è là. Si può parlare? Grazie per gli dare la parola. Grazie. Vi diamo il Paese libero. Il botte risposta sui conti presenti e passati, come quelli del famoso buco del BIM-GSP da 92 milioni di euro, è proseguito per più di mezz'ora e l'ordine del giorno era solo al punto 2 su 28. La votazione della delibera per la variazione urgente al bilancio è passata con 19 voti favorevoli e 11 contrari. Medesimo risultato ottenuto dall'approvazione del bilancio consolidato che riguarda i conti delle partecipate, il cui ritardo ha causato il blocco delle assunzioni al nido primavera e al disagio, patito per oltre un mese e mezzo dalle famiglie di 10 bambini per i quali le porte dell'asilo sono rimaste chiuse.